Sto allattando, attualmente ho una bambina di otto mesi e i dubbi erano tanti, lo ammetto, i dubbi erano tanti, non avevo ancora trovato il coraggio di vaccinarmi, però questa iniziativa ci è venuta incontro e sono venuta con molta sicurezza, ho fatto la prima dose oggi e sono molto contenta. Sono venuta a sentire e poi già avevo comunque l'idea abbastanza chiara sul farlo e quindi poi mi sono vaccinata e spero che vada tutto bene. Erano circa un centinaio le donne in gravidanza che questa mattina si sono presentate nei locali dell'ex arsenale di Piacenza per vaccinarsi contro il Covid. Una iniziativa lanciata dall'Asla dopo che l'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute hanno chiarito le perplessità di chi si trova in stato interessante e non sa come comportarsi con la campagna di vaccinazione contro il virus. Il vaccino è sicuro in gravidanza, stanno uscendo numerosissimi studi che dimostrano come l'ultimo 148 mila donne negli Stati Uniti che hanno fatto la vaccinazione e non hanno avuto nessun problema in gravidanza e nessun bambino nato ha avuto problemi. Quindi dire che è sicurissimo in gravidanza e che aiuta a non prendere un'infezione grave da coronavirus perché anche nelle donne in gravidanza il coronavirus può creare grandissimi problemi. Abbiamo avuto anche gravidi ricoverate con polini respiratori anche gravi. Alle raccomandazioni di medici e ginecologi si associano quelle delle ostetriche. L'invito è quello di prendere contatto anche col personale ostetrico per qualsiasi informazione in ospedale o in consultorio. La prossima appuntamento è per il venerdì successivo. Noi come questa volta saremo a disposizione e cerchiamo di informare bene prima di cominciare il litter per entrare a farsi vaginare di modo che ci siano meno dubbi possibili. Raccomandare non solo la gravidanza ma anche chi è in allattamento. Aspettiamo molte donne in allattamento. Ci piacerebbe vedere arrivare mamme con passeggini come abbiamo visto questo venerdì. Se ti avvengono le malattie, se prendi il covid dopo è molto rischioso per il bimbino. E perciò sono venuta volentieri a farlo. Perché cioè che è meglio per me e il mio figlio, bisogna farlo. Ed è giusto così.